Conto quanto costa il make up che faccio tutti i giorni Crema solare della Nivea che costa 12 euro Non deve veramente mai mancare Dopo la crema solare vado a mettere questo primer che costa 32 euro Primi due prodotti e siamo già a 44 euro Fondotinta della MAC 40 euro Per stenderlo utilizzo queste che ho preso gratis da Temu Correttore della Too Faced costa 30 euro Per le sopracciglia utilizzo questo che ho preso gratis da Shane Prendi due e paghi uno E le fisso con il gel di Mulac che costa 21 euro Meglio andare avanti e scoprire il risultato alla fine Contouring della Elf 20 euro Dior 42 euro e pennello preso gratis da Temu Illuminante ancora nuovo di Ariana Grande Bellissimo, stupendo, io lo amo 25 euro Adesso mi metto la farina che è costata la bellezza di 48 euro di Anastasia Mascara della L'Oreal pagato 15 euro Questo di Anastasia che costa, non lo so, adesso controllo Onestamente non so se ridere o piangere Ho finito di contare e siamo arrivati a un totale di 283 euro Io adesso voglio sapere la vostra perché altrimenti mi parte una crisi